Oggi parlerò un po' di movimenti sociali in Italia, in particolare quello che mi interessa analizzare sono gli immaginari collettivi. Cosa sta succedendo all'Italia adesso a livello di aspettative per la mia generazione e per le nuove generazioni? Come ci immaginiamo il futuro? Questa è una domanda e penso che i movimenti sociali siano un campo molto importante in cui guardare come questi aspettativi vengono creati e come i nuovi immaginari stanno emergendo. Benissimo, le tue keywords per il futuro? Direi movimenti sociali, aspettative, immaginari e partecipazione.